Il giorno quando ci incontrava una cratura completa, non so di più, non so di più, non so di più. Bloccare cosa attacca la seconda metrica, passa. Ma non si aggirà, non si aggirà. 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 C'è quello che ha fatto una cosa. Volevo… ... … ... Grazie a tutti Grazie a tutti Sono più di 10 Una stretta di mano? Una stretta di mano?